Madre, nella mia vita io farò il musicista No, no figlio mio, non farlo, no Padre, nella mia vita io farò il musicista Momento delle cazzate, finito Allora ho deciso che avrei fatto musica nella vita, come professione Che avevo 18-19 anni, ero appena uscito dal liceo Ed ero di fronte alla scelta, vado all'università oppure mi concentro sulla musica Studiavo chitarra elettrica, al tempo quasi non cantavo Ed ero abituato a passare molto tempo sullo strumento per ottenere i risultati che mi interessavano Quindi di fronte agli orari dell'università l'impegno ho capito che era una scelta out-out E mi sono buttato nella musica Ora, immagino che se devi andare da tuo padre a dire che vuoi fare questo nella vita Immagino che tu abbia bisogno di una visione un pochino più completa di che cosa significhi fare il musicista oggi Altrimenti il problema è che nessuno prenderà sul serio la cosa Purtroppo la credenza comune è che per fare i musicisti, dico professionalmente Quindi fare della musica è la propria professione Quindi ottenere uno stipendio, farsi uno stipendio, guadagnare, portare avanti una vita, una famiglia eccetera eccetera C'è una credenza, dicevo, che è quella che il musicista è quello super famoso Quindi o suoni sul palco di stanziero oppure se nessuno stai facendo la fame Non è ovviamente la realtà dei fatti Però è anche vero che per chi si approccia a questo tipo di scelta Potrebbe essere interessante avere qualche strumento in più per capire quali sono gli ambiti professionali all'interno della musica Ovvero quali ruoli si possono assumere e a cosa si può ambire Ho cercato di preparare un discorso riassuntivo che preveda tre macro insiemi degli sbocchi professionali Credo che si possano suddividere così Esiste il ramo del performer, il ramo della produzione, cioè performance, produzione e didattica, insegnamento Allora nel ramo della performance ci stanno dentro un po' di cose Il performer è quello che va dal vivo e suona, quindi quello che fa la performance Non sto parlando chiaramente di Vasco Rossi e dei suoi musicisti a San Siro Non necessariamente, certo ci rientrano anche loro Ma il performer è anche colui che suona in delle realtà più piccole Quindi in teatri ma andando a realtà ancora più piccole si può andare anche in dei locali oppure in delle feste private Per chi conosce questo ramo, che tocca magari gli eventi quali matrimonio Comunque appunto qualsiasi tipo di festa privata È anche molto remunerativo Ora, chiaramente per poter fare questa cosa servono una serie di competenze Perché certo, se siamo sul palco con Ligabue non dobbiamo fare niente Praticamente saliamo sul palco, ci mettiamo così Loro ci mettono la chitarra addosso, ci mettono la pedaliera sotto i piedi, il microfono alla bocca E siamo a posto Però non stiamo parlando soltanto di questa realtà Ma parlo anche di tutti coloro che prendono con il loro mezzo di trasporto Che sia un furgoncino, un van o una multipla Lo caricano con la loro strumentazione Vanno sul logo della performance Montano l'impianto audio A volte anche le luci Mixano tutto, quindi fanno i suoni La sera suonano, incassano il cachet, se ne tornano a casa Qua dentro ci stanno un sacco di figure professionali Posso decidere di strutturare in maniera più corposa il mio live Quindi avere una band, un trio, un quintetto o quello che sia Posso andare da solo chitarra e voce, piano e voce Quindi piano bar Oppure posso fare il karaoke Sono tutti rami professionali che trovano degli sbocchi Personalmente non sono un amante del karaoke Da chitarrista, cantante, preferisco al limite la jam session Se devo andare con la mia chitarra e invitare qualcuno a salire sul palco Mi piace accompagnarlo Ma questo è soltanto il mio punto di vista Perché in realtà chi fa karaoke riesce a lavorare e lavora bene Lo fanno anche a livelli molto professionali Guadagnano anche un sacco di soldi Quindi per chi facesse il musicista un po' snobbone Sappiate questo Il karaoke paga All'interno di questo gruppo ci sta sia il cantante solista Che il turnista Che sia il chitarrista turnista o il corista per esempio O il cantante chitarrista Che fa i cori e suona la chitarra Ok, ci siamo capiti Ma se io vado ad occuparmi prevalentemente di matrimoni ed eventi privati Andrò mai a suonare su un palco più importante Assolutamente sì Basta volere Nel senso le cose non sono esclusive Se il mio progetto è prevalentemente d'accompagnamento Quindi magari non ha quello slancio artistico Che mi permetterà di calcare un teatro Allora posso parallelamente portare avanti un progetto di questo tipo Inoltre le competenze che vi creerete Per poter portare con sicurezza dal vivo Della musica in maniera del tutto indipendente Quindi dall'organizzarsi Lo spartito o un tablet con i testi e gli accordi Saper fare dei suoni dal vivo Conoscere le proprie esigenze come musicista Quindi saper organizzare una buona spia E di conseguenza suonare molto bene Nonché suonare tanti giorni di fila Insomma tutta una serie di competenze Di esperienza che collezionerete Vi renderanno molto appetibili ai rami più alti Ed è questo proprio il caso di Marco Baruffetti Che è attualmente il chitarrista di Francesco Gabbani E che intervisterò nelle prossime puntate L'altro macro gruppo è quello del produttore Nel senso chi lavora nel ramo della produzione E intendo quella figura Che sta in uno studio di registrazione E che svolge tutte quelle manzioni Che si possono svolgere lì dentro Ora chiaramente all'interno di questo gruppo Ci può essere una figura Che sa fare tutte le cose che sto per descrivere O alcune di queste Che cosa può fare un produttore? Un produttore banalmente può registrare musica Quindi avere uno studio di registrazione E quindi registrare la musica degli altri Saper registrare una batteria Saper registrare una chitarra Una voce Saper mettere insieme tutto E mixare Banalmente chi lo sa fare per gli altri E sa scrivere musica Lo può fare anche per se stesso E non solo Può anche essere un arrangiatore Perché magari arriverà In quell'occasione Un chitarrista Cantautore Cantante Che scrive la sua musica E che ha bisogno di un arrangiamento Ovvero che Tu che sei un produttore Vada a mettere il resto della musica Sulle sue canzoni In generale Tutto quello che è produrre musica E metterla su un supporto Quindi che si trasformi in un mp3 In wav Quello che sia Insomma È proprio del ruolo del produttore Quindi anche il beat maker Insomma Ci sono tante figure Riassumibili all'interno di questa figura L'ultimo ruolo è quello della didattica Ovvero dell'insegnamento Assolutamente da non sottovalutare In verità Ormai Penso di poter dire Che praticamente tutti E a tutti i livelli Fanno almeno un po' di didattica Finalmente Tutti noi conosciamo dei musicisti Che danno anche delle lezioni di musica Ma sappiamo bene ormai Che anche Alicia Keys E Tom Morello Fanno delle webinar didattiche Quindi possiamo dire Che a tutti i livelli Questa qua è una fonte di lavoro La didattica Ora qualcuno potrebbe chiedermi Ma tu che cosa hai scelto Di fare Vabbè è banale Io mi occupo principalmente Di didattica Ma non solo Nel senso che Quando è stato il momento Di decidere Faccio il musicista In poco tempo ho capito In qualche anno in verità Che non sarebbe Stata certa La mia strada Quindi che cosa ho studiato Ho studiato tutto Ho studiato per avere competenze Per saper fare Tutte queste cose E in una certa misura Sarei in grado di farlo Ma non solo io Tutti i musicisti professionisti Che conoscete Tornando a quando Sono uscito dal liceo La prima cosa che ho fatto Parallelmente a portare avanti Lo strumento La chitarra elettrica Ho iniziato A prendere lezioni di canto E mi sono iscritto A un corso da fonico Di 800 ore E ho passato 400 ore All'interno dello studio Lab di Pisa E quindi ho imparato Tantissime cose Sulla produzione E sul missaggio E non solo Ho imparato anche Come si fa A cablare un impianto E come si fanno A fare i suoni dal vivo Perché si innesca un Larsen Perché mi sento male Perché voglio un pochino Di riverbero sulla voce Nelle casse O cose del genere Per cui fare musica Non è diventare famosi Quella lì è l'eccezione Banalmente Ci arrivate subito Anche da soli Basta rifletterci un attimo Fare musica È imparare A fare un mestiere Un mestiere Che può avere Tante sfaccettature Quindi sicuramente L'approccio Deve essere quello Per il quale Non mi metto A fare musica Se non voglio Fare un po' Impresa Nel senso che Sarò comunque Un lavoratore indipendente E devo saper Procacciarmi il lavoro Certo C'è la possibilità Di trovare anche Un lavoro Con uno stipendio fisso Potrebbe essere Ruolo di Non lo so Di corista All'interno Dell'orchestra Di un teatro Oppure cercare Di diventare insegnante Nelle scuole statali In definitiva Si può decidere Se intraprendere Poi Poi Dopo aver sviluppato Tutta una serie di competenze Che ci permettono Di essere appetibili A 360 gradi Si può decidere Se Abbracciare completamente Uno di questi rami Quindi che sia Produzione Performance Oppure didattica Oppure se Magari fare un po' Tutte queste cose In maniera organizzata Sicuramente Conoscere le professioni Cercare di capire Cos'è che ci può portare Un po' di guadagno Nell'immediato E cosa invece Deve essere coltivato E frutterà con il tempo Insomma Strutturare Quello che sarà Il nostro percorso didattico Quindi Di apprendimento Di creazione Delle nostre competenze E quello che sarà Conseguentemente Il nostro percorso lavorativo Può darci un'idea Diversa Di che cosa voglia dire Fare il musicista Per cui Mamma guarda qui Io faccio il musicista E questo è un'idea Diversa Di che cosa voglia dire